Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nel refettorio dei frati Minori Cappuccini, accanto al posto dove Padre Pio insieme ai frati pranzava, qui oggi per raccontarvi quanto ci scrive Padre Marcellino Iassenzaniro nel suo libro La missione di salvare le anime, testimonianze. Ecco un racconto che riprende dai testi di Padre Pellegrino. Sappiamo quanto Padre Pio si è, ecco potremmo usare questo termine, addossato, addossato l'iniquità dei suoi figli che era necessariamente poi deve pagare per essi, scrive Padre Marcellino. E in un testo, nel testo di Padre Pellegrino Funicelli, nel mese di Mariano, lui scrive, leggiamo, che Padre Pio parlando della sua partecipazione proprio a questo travaglio di quelli che egli aveva rimesso nella grazia di Dio attraverso la confessione, riferendosi all'atto finale proprio del sacramento della riconciliazione, dice, nell'assegnare la penitenza prima che al penitente l'assegno a me stesso, scriveva Padre Pellegrino. Ecco per penitenza nell'ambito del sacramento della della riconciliazione si intende fare da parte del penitente qualcosa proprio per ripagare le sue colpe oppure per espiare i peccati commessi, cioè scontare la pena, quindi patirla, per in un certo senso risarcire, riparare l'offesa fatta a Dio. Ecco, ebbene, Padre Pio afferma che lui intende precedere il penitente, racconta Padre Marcellino, cioè facendo ricadere proprio l'onere dell'espiazione su di sé prima che sull'altro il penitente. Quindi sapendo poi noi che per chi ha offeso Dio il risarcimento dovrebbe durare una vita e neppure basterebbe, dobbiamo concludere, scrive Padre Marcellino, che questo impegno che proprio Padre Pio, santo confessore, prendeva su di sé non si poteva limitare ad uno spazio ristretto e quindi risulta anche logico che la penitenza si sarebbe quindi operata in termini di continua preghiera, privazioni, sacrifici che costatavano sangue, ecco, sangue, sì, sangue. A Padre Pellegrino infatti che in un certo qual modo gli rimproverava questo eccessivo rigore nell'andare ad amministrare il sacramento della riconciliazione, quindi della confessione, Padre Pio rispondeva così, vado sul virgolettato, è vero, io ai miei penitenti faccio gettare il sangue, ci metto però pure il sangue mio. E come per far capire la necessità di questa sua oblazione cruenta, lui aggiunse, non solo, ma sul volto del penitente vedo le piaghe di tutti gli uomini, insomma, vedo tutto rosso. Grazie